Pinocchio in bicicletta, siamo a Serra San Bruno per l'inaugurazione della bike sharing con il maestro Gerardo Sacco. Qui un ritorno nelle manifestazioni organizzate da Mimmo Bulzumi e dallo Sporting Club. Io quando chiamo a Mimmo Bulzumi sono sempre presente perché ieri sera dovevo essere allo stadio Berito Stilpe, lì a Frosinone, è stata la partita di beneficenza per l'admo con tutte le leggende di calciatore di Lazio, Napoli e Roma contro gli attori, attrici e calciatori delle glorie. Oggi a Via Margutta a Roma un altro premio, però poi l'amabilità anche di Sua Eccellenza Monsignor Nostro, e poi a trovare sempre un amico di questo territorio che viene da così lontano come un mito come Francesco Mosere, è stata veramente una gioia e un onore per me fare sempre qualche cosa, anche piccolissima, ma unendolo con tutte queste persone possiamo fare veramente, può diventare qualcosa di grosso. E' un'iniziativa poi questa qui, dei bambini, con il fatto di questa idea del preterando Pinocchio, veramente sono cose che lasciano sperare per il futuro. Dio ci ha donato questo bel territorio e noi dobbiamo essere degni per conservarcelo e godercelo. Grazie. Grazie.